Buonasera a tutti, se di buonasera si può parlare, sembra un pit stop obbligato ormai quasi da scaletta, quasi da protocollo, il nostro tema degli infortuni durante la sosta nazionale di settembre, di anno in anno è sempre così, le stagioni del calcio sono diventate un bene proprio rebelot, si diceva a Milano una volta, casino, diciamo oggi noi. Devo dire la verità che mi spiace molto Perisma, quando ho visto i primi dispacci che arrivavano direttamente dal ritiro della nazionale algerina ho sperato che infortunio fosse la traduzione, che si trattasse di acciacco, che si trattasse invece no, proprio quando succedono le cose succedono proprio bene, cioè male, bene nel senso più amaro del termine e quindi non so adesso quantificarvi, aspettiamo che si pronunci ufficialmente definitivamente il Milan, però sappiamo tutti che quando succede qualcosa al polpaccio non è mai qualcosa di breve, non è mai qualcosa di semplice e quindi mi spiace Perisma, mi spiace Perisma che purtroppo sta passando da un infortunio all'altro, un po' come era accaduto l'anno scorso a Calulu e poi parleremo anche di Pier, perché insomma anche qui come nel video precedente di Tonali non voglio fare pianistei, non voglio fare vittimismi, ma mi sembra che la narrazione ci metta del suo, però stiamo su Ben Nasser, abbiamo un infortunio non semplice, abbiamo un infortunio non semplice perché la stagione fra poco entra nel tritacarmi, nel frullatore delle partite ogni tre giorni e per noi non è semplice, perché in questo momento abbiamo tre centrocampisti di ruolo di prima squadra, tre centrocampisti di ruolo di prima squadra che sono Fofana, Musa e Reinders e ruotarne tre significa che ogni tre giorni deve cambiare la coppia di fatto, quindi con tutto l'impatto sui meccanismi, sui riferimenti e sulle intese che questa cosa qui ha e poi con un alto dosaggio di partite per i tre giocatori. Alternative ai tre, l'adattamento a mezzala di Loftus Cic, sperando che possa fornire il rendimento che offriva l'anno scorso, ma Loftus il suo buon rendimento l'anno scorso da mezzala lo aveva offerto a tre, mai a due, quindi se arretri Loftus ma giochi a tre hai comunque il problema di ruotare sempre due centrocampisti su tre ogni tre giorni, quindi anche con un impatto sul modulo eventualmente. O se no ci sono i due ragazzi, ci sono Silvano Voss e Kevin Zeroli, sono andato in ordine alfabetico. Kevin Zeroli è già esordito in prima squadra nel Milan, alla fine della scorsa stagione ha fatto una parte di tournée, Silvano Voss giocava nella prima squadra dell'Ajax la scorsa stagione e dopo il suo esordio con il Milan futuro a Carpi l'allenatore avversario ha detto questo ragazzo con la Serie C non c'entra niente, quindi Voss giocava già nella prima squadra dell'Ajax, ha fatto delle partite di Europa League la scorsa stagione, Kevin Zeroli ha una, si tratta di giovani quindi usare il termine anzianità di servizio rischia di essere un po' forzato come concetto, però ecco la maggiore anzianità di servizio di Kevin Zeroli in casa rossonera c'è anche se a livello di età e di esperienze siamo lì, è vero che ha fatto l'Europa League con l'Ajax Foss però Kevin Zeroli ha guidato di fatto la nostra primavera l'anno scorso alla finale europea di categoria, la finale di Youth League, la finale Andra 19 a livello europeo, la Champions League primavera, la Champions League giovanile quindi una sua esperienza l'ha manturata anche lui, gioca regolarmente nei nazionali giovanili vedremo, chiaro che è una notizia quella di Isma che ci rattrista per il ragazzo, che ci colpisce per quanto riguarda l'organico e ci fa capire insomma che le stagioni del calcio sono veramente un dribbling continuo fra le tegole, che è un termine che è molto caro e che verrà usato, tegola sul Milan, tegola sul Milan, tegola sul Milan, come piace fare a molti, come piace raccontare e narrare a molti. A proposito di narrazioni, nel video precedente mi lamentavo un po' di Sandro Tonali preso un po' a pretesto tanto per mescolando le carte, facendo manovre dialettiche ardite, ricordando quel che fa comodo ricordare e dimenticando quello che non fa comodo ricordare. E la stessa cosa vedo un po' anche su Calulu, Calulu francamente mi sembra che stia ai giornalisti opinionisti come l'area di San Francesco nei pressi di Chiaravalle ai politici milanesi, cioè prima non se la filava nessuno, prima non se lo filava nessuno, adesso invece puntini, puntini, puntini. L'area di San Francesco a Chiaravalle dove ci auguriamo e dove spero che sorga il nuovo grande stadio del Milan era un'area completamente abbandonata, sì concettualmente verde, concettualmente parco sud, ma in realtà erba incolta, siringhe, depositi di rifurtive, quindi furti e oggetti abbandonati e quant'altro. Il Milan ha bonificato e recintato gran parte e porterà a termine entro il mese di settembre l'opera di bonifica e di recinto dell'intera area. Prima però nessuno se la filava quest'area, adesso che ci deve fare sopra lo stadio il Milan addirittura si va a mobilitare l'UNESCO. Mutatis mutandis, dicevano i latini, cambiando completamente argomento, arriviamo su Calulu. Calulu era un nostro giocatore che nessuno si filava particolarmente. Con tutto rispetto per Pier lo dico, sia ben chiaro, Pier che è un gran professionista ed è stato, mi dicono, forse il miglior difensore del Milan nel girone di ritorno dello scudetto. Quindi non tolgo nulla a Pier, non è che perché siccome è andato in prezzo alla Juventus allora c'è la diminuzio. No, no. Semmai, semmai, quelli che facevano la diminuzio prima, adesso, siccome anche Calulu serve per attaccare il Milan, ne fanno un uso un po' forzato, un uso sopravvalutativo. nel senso che di Pier Calulu io ricordo una prestazione meravigliosa da terzino destro contro la Juventus, proprio contro la Juventus, Milan-Juve 2-0 ottobre 2022, gol di Tomori nel primo tempo di Brian Diaz nel secondo. Però da quella partita lì, ad alti livelli, purtroppo Pier, un po' per la piega che ha preso la stagione del Milan. Cioè, nella seconda parte della stagione 2022-2023, non so se quelli che parlano di Calulu, ah, non mi convince la sua cessione, a parte che è un prestito, ma si ricordano che nella stagione 2022-2023 Malik Chao ha preso a pieno titolo il posto di titolare a Pier nella squadra che è arrivata in semifinale di Champions League, se lo ricordano o non se lo ricordano. Cioè, Pier è stato un grandissimo lano dello scudetto. Poi ha avuto alcuni picchi di rendimento, ma il suo 2023 e il suo 2024 sono stati di prestazioni normali e di infortuni. Noi ci auguriamo che Pier ritorni, perché fior di ragazzo e fior di professionista ha dotti, però per tornare con continuità ad alto livello fisico-atletico di intensità aveva forse bisogno di una svolta, poi ci sarà questo ritorno benissimo, lo riscatterà la Juventus per il Milan un pacchetto da 20 milioni di euro, non lo riscatterà la Juventus, tornerà al Milan temprato e rinvigorito. Però quelli che non se lo filavano nemmeno e che adesso invece lo incensano e lo magnificano, mi sa tanto che usano anche Pier Calulo per dare una botta negativa di critica al Milan. Anche questo è un uso, un po' strumentale o no? Sì che lo è. Dai, ciao a tutti e domani!